Questo è un progetto, su queste regate si conclude con la regata 999, 9 perché 9 erano i municipi che hanno partecipato, 9 le lettere di Ocean Race e 9 i membri dell'equipaggio perché gli equipaggi erano in relazione ai vari municipi, quindi ai nostri 9 municipi. È stato un grande successo, è un lavoro che viene portato avanti dalle politiche sociali insieme agli enti del terzo settore da anni, quest'anno sono usciti tutti in barca a vela proprio per provare queste regate e oggi quindi è un po' la conclusione con la premiazione. È stato un grande successo, più di 600 ragazzi dei centri sociali coinvolti, insomma continueremo a fare questo perché i ragazzi hanno mostrato molto gradimento, avevano un foglio da compilare sul gradimento da 1 a 10 e il 30% 9 ha messo e il resto il 70% ha messo 10, quindi vuol dire che è stato un gran successo. Grazie a tutti.